Ok, l'interessante esercizio che abbiamo visto a scuola, progressione molto semplice di questo 2-5-1, quindi tutte le voci risolvono sulle progressioni do maggiore, seguiamo le maggiore, la bemolle maggiore, sol bemolle maggiore, mi maggiore, re maggiore, la bemolle maggiore, si maggiore, la maggiore, sol maggiore, fa maggiore, mi bemolle maggiore per cui se io parto da una situazione in cui rimango centrale in un pattern che è quello di do, voglio rimanere do maggiore, do dorico, do frigio, si lidio, si misolidio, do diesis, locrio, do locrio, si ionico ovviamente si, dorico, do lidio, do misolidio, do e olio, perché cerco di rimanere ovviamente il più compatto possibile, questo significa che poi dovrò riuscire a traslare tutti i modi nel più breve tempo possibile nella localizzazione visiva il più breve tempo possibile questo si porterà poi ovviamente nel corso del tempo, soprattutto di questo materiale, di questo libro che penso sia molto interessante sia per questi esercizi, ma annaggia mi è chieduto un plettro che costa un milione di euro, di questi anche esercizi di lettura melodic connecting, di questi turn around, ma anche di questi due 5 su ovviamente anche di famiglie di harmonic minor per cui semi diminuiti alt, minor, 7 major, dei primi gradi, col trend change, piuttosto che vari tipi di turn around oppure vari tipi di letture, questi sono molto interessanti, per cui comunque il libro è questo non so se si vede, ok, volumi penso che avranno non so quanti anni, 20 anni, per cui semi diminuiti, quinte, non alterate in all case, per cui ad esempio le vedi, no, ad esempio fa diesis, dominant, non eccedente, si maggiore re diesis, non eccedente, sol minor vediamo il primo, subito, nelle varie tonalità, come mi sposto con gli accordi di settima su due 5 e uno grazie ai rivolti, lo ripeto solo perché mi interessa per i miei, my friend, cui lo vediamo semplicemente come se fosse un piano forte, no, per cui vedi, minor, ovviamente, flat major, minor ora non so, però, tipo, un minore 7, combinandoli la, re region, come si sente, ovviamente, li vedi, eh, chiari, li vedi chiarissimi, mi rimolle minore, semplice, eh, semplice, eh, thought is minor Subdorian 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 Lidia 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 Il sposto Sempre l'occhio, porta giusta, sempre ionica. Gloria, G Major, Lydian, C. Lydian, 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 Lydian. E ho chiuso ovviamente, sempre in questo set. Per cui, il lavoro è questo. Sbattiti.